Parlo da giornalista e da uomo libero, ho sempre ritenuto che il male di Taranto sia l'Ilva, chiamatela ex Ilva, chiamatela Ital Sider, chiamatela Arcelor Mittal, ora la vorranno anche chiamare con un'altra espressione quanto mai falsa ed ipocrita, ossia siderurgia italiana green, verde. L'appello che faccio è che ogni domenica dobbiamo essere sempre più numerosi perché dobbiamo contrastare quest'altra favola che si sta raccontando, la storia dell'acciaio green, la storia della produzione ad idrogeno e lo si sta facendo puntualmente perché quelle forze politiche, parlo di tutte le forze politiche, nessuna esclusa, tutte, dal centro-destra al centro-sinistra, al Movimento 5 Stelle, negli anni, nei vari governi hanno condannato a morte Taranto. È ovvio che oggi ci si rivolge a questo governo perché questo governo è in carica, se domani mattina non ci sarà più Conte ma ci sarà il signor Mr. X, ci si rivolgerà al signor Mr. X. Ma non è possibile anche da parte della regione voler tappare la bocca ai Tarantini, voler ingannare la buona fede dei Tarantini parlando di acciaio green ed è bene che dobbiamo dimostrare questa eresia, questa falsità assoluta scientificamente, tecnicamente, attraverso gli esperti del settore perché è molto facile da parte di Emiliano parlare di questa riconversione. Vedete oggi si parla di riconversione, col termine riconversione si dice tutto e non si dice nulla perché i loro signori intendono per riconversione un altro tipo di produzione altrettanto assassina mascherata appunto dall'aggettivazione verde, dall'espressione green. Questa è la vera falsità che si sta perpetrando. Allora dobbiamo smascherarli con strumenti scientifici e ringrazio, ho avuto modo di intervistare poc'anzi l'ingegner Fasanella che tecnicamente ha spiegato come sia una tutto sommato una favola questa della produzione dell'acciaio verde ma lo dobbiamo fare anche con l'apporto e grazie a Dio ce ne sono di medici, di operatori sanitari che vivono ogni giorno dannato per questa città il draba dei tumori. Nessuno può dire che io voglio speculare perché io sei mesi fa ho perso mio padre di sarcoma. Il male dei mali, il male dei mali, nessuno può accusarmi di volere speculare. Questo significa andatevi a fare un giro al Moscati, andate a fare un giro nell'oncologia, andate a vedere i poveri Cristi che stanno lì attaccati sei ore e sono condannati a morte. Questa è la realtà. Quando ci vengono a dire se a Taranto chiude l'Ilva dove andiamo a mangiare io rispondo se io mi ammalo di tumore dove mi vado a curare a casa tua, criminali. Questa è la realtà di Taranto, il grido disperato di questa città che non deve stare in silenzio e vorrei che ci fossero tante associazioni. A noi non ci interessano le etichette, i timbri stampati sulle magliette. Ci interessa fare una battaglia comune, la battaglia per la vita, la battaglia per la dignità del Tarantino che viene calpestata ogni giorno e ci sentiamo dire abbiamo risolto il problema Ilva, ma vi rendete conto? Vi rendete conto che i tumori stanno attaccando i bambini? Non stiamo parlando di un soggetto adulto che può avere una vita dissoluta, che può contrarre il male lavorando in ambienti malsani, ma i bambini. Qui stiamo parlando di un crimine contro l'umanità, stiamo parlando di un crimine, di un qualcosa che va ad uccidere, a colpire il DNA. Questo non è solo un omicidio di Stato e dico di Stato perché c'è la firma del governo, ma è un genocidio, genocidio. Uccidere, colpire il soggetto nel gene, il bambino. Questa è la realtà e allora per cortesia apriamo gli occhi, cerchiamo di unirci, cerchiamo di stringerci e chi ha qualche dubbio, per cortesia, si facesse un giro al Moscati. Il dottor Pisconti, gli altri oncologi non ne possono più, il numero sta scoppiando. Esiste il Covid, è una patologia, una realtà, un'epidemia mostruosa, assassina. Ma non dimentichiamoci gli altri mali di Taranto perché quel benedetto giorno in cui queste mascherine non ci saranno più, perché vorrà dire che i vaccini avranno funzionato e che la pandemia sarà chiusa, i tarantini comunque dovrebbero continuare a vivere, a girare per la città, non con la mascherina, ma con le maschere antigas. Questa è la realtà di Taranto, signori cari. Allora benvengano e concludo queste manifestazioni. Ognuno dovrebbe avere nella propria camera questo striscione, tutto l'acciaio del mondo non vale la vita di un solo bambino. Dovrebbe guardare in faccia i propri figli e dovrebbe battersi. E allora benvenga davvero queste manifestazioni dell'Associazione Genitori Tarantini. Ogni domenica, ogni domenica, diceva Socrate, esiste il tafano. Il tafano era una mosca fastidiosa. Ecco, così dobbiamo essere. E dobbiamo aggredire, tra virgolette, aggredire civilmente, democraticamente, far sentire il fiato sulle istituzioni, far sentire il fiato sul sindaco, sul presidente della provincia, sul presidente della regione, sul Consiglio regionale, sui nostri parlamentari, sul governo. Perché Taranto è il sacrosanto diritto alla vita. Un diritto che viene stuprato in questa bellissima città, bella e maledetta. Grazie.